Lord Soth, il Darth Vader di D&D. Lord Loren Soth nacque in una nobile famiglia di Solamnia, una delle nazioni più potenti del continente di Ansalon. Cresciuto nei valori del codice e della misura, che sono il cuore dell'ideale cavalleresco di Solamnia, Soth dimostrò fin da giovane un coraggio e una dedizione ineguagliabili. La sua abilità con la spada e la sua determinazione gli fecero guadagnare un posto d'onore tra i Cavalieri della Rosa, il più alto ordine dei Cavalieri di Solamnia. Soth divenne il signore di Dargard Keep, una fortezza imponente che si ergeva sopra la regione circostante, simbolo della sua autorità e del suo potere. Sposò Lady Corrine, una donna di nobile lignaggio, e per un periodo sembrava che Soth avesse tutto ciò che un uomo potesse desiderare. Potere, onore e una famiglia. Ma sarà davvero così? Il destino di Lord Soth prese una piega oscura quando incontrò Isolde de Nissa, una bellissima elfa. L'incontro avvenne in circostanze tumultuose quando Soth salvò Isolde e le sue ancelle da un pericolo imminente. Isolde è una figura eterea e affascinante, la cui bellezza e grazia non passano certo inosservate dal Cavaliere. Soth, nonostante il suo matrimonio con Lady Corrine, si innamorò perdutalmente di Isolde. E come ci insegna Anakin Skywalker, questo amore illecito fu l'inizio della sua rovina. Quando Lady Corrine scoprì la relazione, la sua rabbia e la gelosia portarono una serie di conflitti terribili. Lei era incinta e partorì un figlio deformato dalla magia oscura. Soth, in preda alla rabbia, diede la colpa alla moglie per l'aspetto del figlio, finendo per uccidere sia lei che il suo nascituro. Venne condannato a morte dai cavalieri per questo crimine, ma scampò al boia grazie all'aiuto dei suoi fedeli combattenti. Fuggì ad Hargard Key per evitare l'assedio. Ai cavalieri di Solammia non restò altro da fare che bandire Soth. Nel frattempo Isolde partorì un altro bambino, Peradur Soth. L'elfa pregò la dea Mishakal di aiutare il suo neomarito, che sembrava soffrire immensamente. Soth ricevette una profezia da un gruppo di chieriche che lo avvertirono di un imminente cataclisma che avrebbe devastato il mondo. La profezia indicava che solo lui poteva impedire la catastrofe, ma solo se avesse lasciato da parte i suoi peccati e avesse agito con puro cuore. Soth, inizialmente, accettò la missione. Tuttavia, mentre si preparava a partire, fu raggiunto da voci di tradimento da parte di Isolde e delle sue ancelle, insinuando che il figlio che Isolde aveva dato alla luce non fosse suo. Accecato dalla gelosia e dalla rabbia, Soth abbandonò la sua missione e tornò ad Hargard Keep, lasciando che il cataclisma si compisse e devastasse il mondo, uccidendo anche Isolde e Peradur. A causa del suo fallimento e dei suoi peccati, Soth fu maledetto dagli dèi, gli fu negata la pace della morte e fu trasformato in un cavaliere della morte, un non morto spettrale condannato a vagare eternamente. La sua roccaforte, d'Hargard Keep, divenne un luogo infestato e oscuro, dove Soth governava come un sovrano tirannico, circondato dai fantasmi delle sue ancelle, costrette a cantare eternamente la loro colpa e il suo tradimento. Come cavaliere della morte, Lord Soth divenne una figura di terrore e leggenda. La sua armatura, un tempo splendente, si annerì mentre i suoi occhi brillarono di una luce sinistra. Dotato di poteri necromantici, Soth poteva comandarne un morti, lanciare incantesimi oscuri e resistere a quasi ogni ferita. Divenne una forza terribile e inarrestabile. Nonostante la sua maldizione, Soth conservò un senso distorto dell'onore, continuò a vivere secondo un codice personale, tormentato dai suoi fallimenti e dei suoi peccati, ma incapace di trovare redenzione. Divenne un avversario temibile per gli eroi di Kryn, il mondo di Dragonlance, e un alleato temuto per coloro che cercavano di sfruttare il suo potere. Lord Soth fu coinvolto in numerose trame e avventure nel mondo di Dragonlance. Uno degli eventi più significativi fu il suo coinvolgimento nella guerra delle lance, dove si alleò temporaneamente con le forze del male per perseguire i suoi obiettivi personali. Tuttavia, la sua lealtà era sempre incerta, guidata più dai suoi tormenti personali che da una motivazione genuina. Un altro momento chiave della sua storia fu il suo viaggio a Ravenloft, un mondo parallelo governato da entità oscure conosciute come i poteri oscuri. In Ravenloft Soth incrociò le armi con il vampiro Strahd, per poi diventare il sovrano del dominio di Sithicus, un regno di ombre segreti dove continua a regnare con il pugno di ferro affrontando le sue stesse paure e i suoi demoni interiori. Nonostante i tentativi di alcuni eroi di riportarlo sulla retta via, Lord Soth rimane una figura tragica, incapace di redimersi. Ogni tentativo di redenzione era ostacolato dei suoi stessi peccati dalla sua incapacità di perdonarsi. La sua storia è un monito sui pericoli dell'orgoglio, sulla gelosia e la vendetta, e una riflessione su come anche i più nobili possano cadere se non riescono a dominare le proprie emozioni. Lord Soth è uno dei personaggi più complessi e affascinanti dell'universo di Dragonlance. Rappresenta la caduta dell'eroe e la tragica incapacità di trovare redenzione. La sua storia continua a ispirare e a terrorizzare i fan di Dungeons & Dragons in tutto il mondo.